Siamo all'incontro con Invocando Benedizioni dal Libro dei Menti. Ci benedica il Signore e ci custodisca. Il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia. Il Signore rivolga a noi il suo volto e ci conceda pace. Amén. E con questa benedizione iniziamo questo primo dei tre incontri. Dico subito, questa mattina mi soffermerò un attimo anche sulla nozione di giubileo. Nella Sacra Scrittura. Poi vedremo, così, come questo, come l'anno di grazia giubilare, è un invito ad un'ascesa. Ad alzare la fronte, ad andare oltre. Ecco, e quindi questo cammino verso l'alto. Ecco, la porta si apre e con la porta a noi viene la misericordia, compassione di Dio, che è forza, che è energia per nuovi cammini. Quindi terzo, questo esserci in maniera alta e oltre, diciamo così, oltre il socialmente utile, in questo senso, che bisogna recuperare e unificare le opere di misericordia corporali e spirituali per l'altro, vanno, che è il socialmente utile, questo va legato alla sua sorgente. La misericordia è il dono del misericordioso. Quindi unire sorgente e opera. Oltre il, possiamo dire, ecco, oltre una visione, una lettura settaria della Chiesa, il settarismo. In fondo, ecco, questa fuga dal mondo e questa è del mondo in nome di una propria purità. Dimentichi che il sale è per la minestra, che il lievito è per la pasta, che la comunità ecclesiale è per i luoghi presso i quali vive. Nel mondo, anche se non conformi alla logica di questo mondo, ma nel mondo è per il mondo. Quindi, ecco, la Chiesa non può essere una setta. E terzo, oltre, ecco, mi permetto di dirlo, il paradigma ottico. Quello che privilegia miracoli, apparizioni, visioni e santoni, ecco, oltre il paradigma ottico nella consapevolezza che il generato dal misericordioso ad una vita di compassione, questa è la visione che il mondo si aspetta. La comunità credente, il cristiano, è la visibilità della misericordia di Dio nella storia. Noi siamo, l'uomo nuovo è il miracolo. Quindi, ecco, e quindi allora vedremo, ecco, anche come questo, questo uomo nuovo debba abitare, abitare la terra in un terzo incontro. Ma che cos'è questo anno? Ecco, lo diciamo con Papa Francesco. Sarà un anno della misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore. Siate misericordiosi. Quindi è un evento che accade poi, anche questo bisogna chiedercelo, che accade in un preciso momento storico. Dove, ecco, si dice che non vi sono dei cambiamenti, ma si parla di un momento storico come cambiamento di un'epoca. Alla fine c'è una crisi di un mondo. Non c'è ancora nessun mondo nuovo. Siamo nella fase della transizione, in mezzo al guado. Ecco, quindi, ecco, siamo in questa situazione. E poi anche a livello locale, basta pensare ai nostri paesi, alle nostre città, noi viviamo il tempo ormai della rottura, dell'unità tra la città, la famiglia, la scuola, la parrocchia. Io mi ricordo quando ero piccolo, mio padre e mia madre in casa, le loro raccomandazioni. Andavo a scuola, risentivo le stesse raccomandazioni. Andavo in parrocchia, risentivo le stesse raccomandazioni. Andavo, ecco così, nel villaggio, o alla casa del popolo, come si usava da noi, o ad un'altra casa, risentivi le stesse raccomandazioni. raccomandazioni. In fondo, Don Camillo e Peppone erano due facce della stessa medaglia. Uno viveva un senso di unità. Oggi, finito. La rottura è tranquillamente accettata. tra la parrocchia, la scuola, la famiglia, la città. E quello, dico questo a esemplificazione, quello che accade nella città e nel villaggio è quello che accade a livello mondiale. È il tempo della rottura. E il tempo della rottura diventa il tempo della conflittualità. e nel nostro tempo, il tempo della conflittualità, è un tempo di guerra. Che poi abbia la forma del terrorismo da un lato, della rappresaglia dall'altro. Siamo in questa situazione, dove l'unità manca, manca anche un codice di valori etici, sociali, religiosi, condivisi. Condivisi nella sostanza. Ecco allora che questo tempo dell'opinabile, dell'opinabile, del relativo, in fondo del soggetto, almeno da noi in occidente, del soggetto, il soggetto come fonte di diritto. Il soggetto e i suoi diritti è la caratteristica del mondo in cui abitiamo. E le istituzioni devono essere a sostegno del soggetto con i suoi diritti. E i miei valgono i tuoi. La mia visione di vita vale la tua. Quindi, ecco, viviamo in questo pluralismo, ecco così, quindi in un tempo di transizione. Ed è in questo tempo di transizione, ecco che anche in fondo, con molta semplicità, il Magistero di Papa Francesco dice nei tempi di transizione, quando siamo in mezzo al guado, che fare? Bisogna ritornare all'essenziale. All'essenziale. Allora mi domando sovente, se io sono, ecco, in una barca, in mezzo al fiume, ecco così, in situazioni, ecco, è chiaro che dico cosa porto di là? E allora cerco le cose preziose. Alle generazioni future voglio conservare qualcosa di veramente prezioso, di essenziale, per cui molte cose decadono. ritorniamo all'essenziale, che vuol dire ritorniamo al cuore del Vangelo. Uno, ritorniamo all'essenziale, finito il tempo delle ideologie grandi che abbiamo vissuto, viviamo in questo tempo, l'essenziale qual è? Poniamo ascolto alla domanda profonda dell'uomo. Ecco, e qui poi l'arte del ricongiungere Vangelo e domanda dell'uomo. Ecco, questo ritorno proprio, quindi in questo tempo di mutamento, ecco, di un'epoca. Allora, ecco, il Giubileo dice, in fondo questo essenziale evangelico può essere espresso da una parola. Primo. Secondo, questa parola può essere ricompresa dagli uomini? Terzo, questa parola può riumanizzare la vita dell'uomo? Allora ecco, apriamo la porta, apriamo la porta a, ecco, a chi? Al misericordioso che porta una parola, misericordia e compassione. avere il cuore verso la precarietà. Cuore verso il bisogno, verso la precarietà. Avere un cuore, cioè, attento alla domanda dell'uomo, attento al genito dell'uomo, attento al bisogno dell'uomo. e per bisogno si intende, ecco, non solo ecco, il pane, ma per bisogno si intende anche il senso, il senso della vita. Non di solo pane vive l'uomo. Quindi questo bisogno concreto, ma concreto, tanto concreto quanto lo è il pane, tanto concreto lo è il senso della vita. Allora è vero che molti mancano del necessario, ma è vero che molti mancano del senso della vita. E quindi, ecco, questo, aprire questa, questa porta, ecco, a questa parola che pare sia una parola comprensibile da tutti. Cioè, in fondo, il guardare con occhi, io uso spesso questa espressione, il guardare con occhi di fiducia, con occhi di speranza, con occhi di amore, l'altro, chiunque esso sia, questo linguaggio lo capisce. e forse, attende questo linguaggio. Questo linguaggio lo capisce. Ecco allora che questo linguaggio che poi, ecco, definisce Papa Francesco il cuore, il cuore del Vangelo. Al numero uno della misericordia e voltus. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. La sua sintesi. Per cui, ecco, aprire la porta, che vorrà anche dire per noi, aprire la porta del nostro cuore e chiederci che sentimento vi dimora. Da qui dipende la vita. Ma da qui dipende anche la vita sociale. Da qui dipende anche la vita politica. Da qui dipende, ecco, ecco. E più volte abbiamo detto che il Vangelo non dà soluzione di tipo concreto ai problemi. Il Vangelo ti dice solo una cosa, con che cuori affronti i problemi. Un conto e se ho un cuore di lupo, un conto se ho un cuore di volpe, allora sarò prepotente e astuto. E se faccio un mestiere lo faccio sorretto dalla logica, della prepotenza e della astuzia o dall'ignoranza, non so se è chiaro. Se ho un cuore evangelico, un cuore di misericordia che sa leggere l'altro, sa intuirne il gemito, sa intuirne la domanda, allora ecco che cambiano le cose e anche le strutture e anche le istituzioni vengono dettate da questo sentimento che è altamente ragionevole. Oggi siamo arrivati al punto a dire che l'unico sentimento ragionevole è la misericordia e la compassione, per cui se vuoi essere un uomo razionale, è sì compassionevole e misericordioso. Se vuoi gestire razionalmente ecco fallo con questo cuore. Allora da qui l'attenzione al gemito degli ultimi compreso il creato l'ha laudato sì. Ecco allora questa ricerca di una parola che possa spiegare il cuore del cristianesimo udibile da tutti e che umanizzi le vite umane e che renda le strutture il sabato a vantaggio del del uomo. Diversamente il male che viviamo le strutture sono tutte autoreferenziali anche le banche anche le banche autoreferenziale allora come diceva in un articolino di fondo a mio parere con con ironia giusta Massimo Gramellini la banca può diventare una banca e alla fine ci troviamo ecco allora il problema è non so se è chiaro stare e quindi ecco allora l'attualità di questo discorso l'attualità di questo discorso è trovare una lingua che possa di nuovo rendere umana la relazione tra le persone e fra i popoli non è la lingua non è la lingua del terrore non è la lingua della rappresaglia non è la lingua del primato assoluto del denaro non è la lingua del primato assoluto del potere noi ci viviamo in mezzo le dobbiamo usare però ci accorgiamo ecco ecco allora ecco riandare in teologia noi poi parliamo così della gerarchia delle verità che vuol dire ci deve essere una verità costitutiva da cui tutto emana e a cui tutto ribanda allora ecco la preoccupazione di Papa Francesco a cui invita tutta la Chiesa questo sia il linguaggio di Dio che è il linguaggio della misericordia che è il linguaggio della compassione che poi non sono altre che declinazioni dell'amore vuol dire il linguaggio del prendersi di tutto cuore cura di sé dell'altro ed è creato proprio preoccupati della crescita dell'altro allora ecco questa questa misericordia che poi è la cifra del pontificato ecco di Papa Francesco queste sue frasi Dio perdona tutto Dio perdona sempre Dio perdona tutti nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio la misericordia è la fedeltà di Dio a sé stesso alla sua alleanza e alla sua incrollabile pazienza con gli uomini e la Chiesa la Chiesa è dovrebbe essere è perché poi bisogna anche stare attenti al positivo che c'è no? ecco no guai a noi a identificare la Chiesa con 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 l'abate così di Monte Cassino o con questi trafficanti non si capisce bene ecco nel Tempio del Signore ecco così ma nella Chiesa c'è ecco essere il riflesso dello sguardo di forte tenerezza di Dio sull'uomo chiunque esso sia per cui anche quando mi dicono ma anche nei confronti di un terrorista ecco al terrorista probabilmente è mancato questo sguardo ha trovato cattivi maestri non so se vi spiego i nostri ragazzi ecco ecco non privare l'uomo di questo sguardo c'è un atto di fiducia di Dio in te c'è un atto di speranza di Dio in te c'è un atto di amore di Dio in te questo è forte tenerezza l'uomo ha bisogno di questo e la chiesa deve essere il riflesso del volto di Cristo come Cristo è il riflesso del volto di Dio ecco allora questo questo ritorno legato poi alla istituzione alla istituzione giubilare ma voi capite già subito come oggi si parla di stile lo stile ecclesiale è questo è questo ecco siamo chiamati a questo e lo lega a questa storia ecco vorrei fare un escursus breve andate paziente sono tre incontri quindi il primo perché un giubileo il riferimento obbligato al giubileo è Levitico 25 il libro del Levitico il capitolo 25 è riferimento obbligato per una intelligenza profonda dell'anno giubilare Luca 25 1 7 tratta dell'anno sabatico Luca cioè Levitico Levitico 25 8 17 tratta dell'anno giubilare ma prima ancora c'è il sabato settimanale un giorno un giorno la settimana un anno sabatico 49 anni il 50 il giubileo a voler dire uomo 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 che lavora hai bisogno di un giorno di riposo Israele introduce nella storia dell'umanità il riposo sabatico avete presente quando nel libro dell'esodo chiedono al faraone di andare a fare un culto nel deserto il faraone gli dice questi con la scusa della preghiera non hanno voglia di lavorare lavorate sette giorni su sette ma anche Dio sei giorni lavoro ma lasciatemi un settimo giorno per contemplare la mia opera e Dio è il contemplatore della sua opera vede il creato e dice beh me la sono cavata è cosa bella e buona vede l'uomo maschio e femmina e dice me la sono cavata bene è cosa molto bella molto buona è il giorno della contemplazione contempla ecco un giorno alla settimana ci si ferma l'uomo non è solo negozium come dicevano gli antichi ma è anche ozium ozium non era inizialmente una parola negativa vuol dire uomo non sei solo negozio non sei solo affari sei anche ozio sei riposo sei contemplativo felice felice di sapere non me ne viene in tasca un soldo il gratuito lo so se è chiaro il gratuito allora gratuitamente stiamo fermi gratuitamente insieme mangiamo allora insieme celebriamo chi ci ha dato la vita chi ci ha dato la Torah la legge non basta vivere bisogna saper vivere ringraziamo ricordiamo che tutto è dono tutto è dono e nel tempo del tutto è dovuto è importante e sapere che tutto è è dono basta guardare ormai è chiaro anche gli psicologi ci invitano bisognerebbe che l'uomo per diventare saggio ritornasse a meditare il suo atto di nascita lì le onnipotenze vanno via io non ero altri da me mi hanno fatto essere non ero e non mi hanno chiesto il permesso sono un evento di amore di altri assolutamente gratuito se quei altri non mi accudivano io morivo va vero il dono tutto è dono per cui quando noi guardiamo in faccia una persona adulta la cosa che dobbiamo dire è ci sei perché altri ti hanno fatto essere poi è chiaro dall'altro per mezzo degli altri ci sei pensa a questo e pensa anche a come diventi veramente uomo tu fatto essere da altri diventi adulto quando fai essere altri amato ecco ci sei perché amato amato ama e amando fai essere altri in mille modi basterebbe ritornare all'atto di nascita per capire la verità dell'uomo è un evento di amore donato alla terra perché a sua volta amando generi vita vita biologica vita culturale vita spirituale vita strutturale vita politica generi vita ecco quindi riscoprire anche proprio questa sapienza Gesù in Luca 12 57 lo raccomanda sapete leggere i segni dei tempi giudicati imparate a discernere a distinguere da voi stessi ciò che è giusto interrogando anche il proprio atto di di nascita di coltivazione finiscono le idee che causano rovina le idee della onnipotenza e le idee della onnicenza e le idee della immortalità perché fatto essere da altri in una certa maniera per far essere altri in una certa maniera alla fine io sono mortale e se immortalità c'è è perché un altro me l'ha dona è importante recuperare l'orizzonte del dono del dono allora ecco questo ricorda il sabato la domenica riandiamo le nostre radici e per noi cristiani riandare alle radici è proprio è la cena del signore non dimenticare fate questo in memoria annunciate questo noi perdiamo memoria quindi non perdere la memoria dell'atto di nascita non perdere la memoria delle nostre coltivazioni culture avute non perdere la memoria del grande racconto di senso che è il Vangelo bisogna dargli tempo e noi non abbiamo più tempo sapete perché? perché il tempo è denaro e quando uno pensa solo al denaro non ha più tempo per niente quindi riscoprire ecco allora questi riferimenti allora noi ci fermiamo un attimo sul levitico sull'anno sull'anno giubilare ecco levitico 25 8 10 leggo un versetto il signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse parla agli israeliti dicendo loro io vi do io vi dono il sabato l'anno sabato l'anno giubilare e Gesù ci dona la domenica e poi ecco vi dono quindi questo dono va letto all'interno della esperienza credente di Israele riassumibile in tre passaggi il primo passaggio è esodo 3 7 8 ho visto la tua miseria ho ascoltato il tuo gemito mi sono reso conto che ti stanno rendendo la vita amara e di una bellezza per questo ho deciso di scendere Dio abita i suoi cieli la terra la data ai figli dell'uomo se c'è qualcosa che sconvolge Dio è il gemito del dolore qui non resiste la vita amara dell'uomo il gemito dell'uomo la condizione proprio servile dell'uomo è insopportabile agli occhi di Dio è un ritornello costante biblico ridecide di scendere e di scendere come liberatore e anche qui come ci insegnano poi gli stessi commentatori rabbilici leggere anche in senso metaforico il crollo del faraone il faraone e l'Egitto che affondano e questo popolo di servi di schiavi che va oltre a voler dire che poi sono tutti immagini battesimali che poi a voler dire l'uomo che rende l'uomo schiavo l'uomo che causa gemito e dolore all'uomo questo tipo d'uomo questo tipo d'uomo affondi mi capite cosa intendo dire non intendo l'uomo concreto questo tipo d'uomo non è gradito agli occhi di di Dio già questo allora vuol dire stare attenti a accogliere il gemito dell'altro e per quanto ci è dato causiamo meno dolore possibile più gioia possibile è umanissimo il discorso il secondo passaggio quindi qui Dio si manifesta come il liberatore poi il cantico ecco di Miriam il capitolo 15 dell'Esodo Esodo 19 38 Dio si manifesta come legislatore legislatore tu che eri una massa o che eri gente perché il popolo in schiavitù in schiavitù politica in schiavitù religiosa in schiavitù culturale il popolo gregario scusatemi questa espressione non è mai chiamato popolo viene chiamato massa oggi potremmo dire gente no allora dice tu che eri una massa in forme attraverso la Torah la legge ti do forma ti do forma diventi popolo diventi popolo la massa diventa popolo quando è orientata no all'idolatria adora il vivente no alla incuria dell'uomo prenditi cura dell'altro no allo sfruttamento del creato si custode e questa forma è ben espressa da amichea al capitolo 6 versetto 8 l'ave scritto uomo ti è stato rivelato ciò che Dio desidera da te primo pratica la giustizia secondo ama la bontà terzo cammina cammina umilmente con il tuo Dio Israele ti ho liberato per questo tra le nazioni si il segno cioè il santo il diverso il segno di questa novità di Dio cammina umilmente con il tuo Dio pratica la giustizia ama l'amore ama la misericordia ama la pietas ecco quindi e il terzo la terza esperienza esodo 34 5 7 il liberatore il legislatore e il perdono al vitello d'oro perdonare vuol dire eccesso di amore al punto da ridonare il Vangelo dice fino a 70 volte 7 la possibilità di sempre nuovi cominciamenti questo vale dire colui che ti dice ti ho liberato ti ho dato l'orientamento per una vita alta di che vedo la tua infedeltà non lasciarla al complesso di colpa non lasciarla al cinismo tanto non c'è la faccia affidala al perdono di Dio e perdonare vuol dire questo le cose di prima non sono più di nuove ne iniziano giorno dopo giorno ecco l'esperienza che Gesù non viene ad abolire non sono venuto ad abolire né Mosè né Elia né la legge né i profeti Gesù è il compimento è la pienezza è la fioritura quindi Dio si manifesta come il liberatore il legislatore il misericordioso e il giubileo è una parola legislativa di Dio è il legislatore ecco allora il giubileo accoglilo come un dono è da Dio la sua origine è di Dio la sua chiave di lettura è un evento di liberazione il suo scopo il giubileo è dono da Dio dono di Dio è da Dio origine è di Dio dono è liberazione il suo scopo liberazione che vuol dire esci dalla ingiustizia esci dal disamore esci dall'idolatria riprendi nuovo cammino è da Dio per questo in questo capitolo 25 è dichiarato santo cioè separato appartiene a Dio appartiene a Dio è il tempo di Dio non disponibile all'uomo ma donato all'uomo in assoluta gratuità da accogliersi in libertà e in gioia perché ci rende partecipi della intenzione di Dio l'intenzione di Dio è detta da una parola d'eror liberazione remissione Dio vuole liberazione nel caso anche nel termine tipico del giubileo di remissione la liberazione l'editico 25 10 strano ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia scrive una seggetta la liberazione dell'anno giubilare consiste nel rientrare in possesso di ciò che ci appartiene sia la libertà personale in quel mondo chi ha schiavi le rimandi liberi la libertà personale sia i beni ecco perché c'è sempre la trilogia orfani vedove e stranieri le vedove con orfani bambini piccoli a un certo punto non potevano continuare a tirare avanti la casa la proprietà della casa e dei campi allora ecco come dice Isaia c'era chi accumulava campo a campo casa a casa e queste rimanevano senza ogni 50 anni libertà personale gli schiavi tornino liberi i beni come case e campi ritornino ai proprietari originali quindi se uno aveva 50 palazzi doveva fare la restituzione storicamente come sia avvenuto o meno non lo sappiamo ma ti rendiamo conto di queste cose e la parola di Dio è ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia che poi per loro voleva dire tornare nell'ambito di una vita dignitosa hai il tuo campo hai la tua casa vivi vivi va bene potremmo quindi vedere l'anno giubilare come un tempo come un tempo donato da Dio nel quale è possibile ritornare in possesso di ciò che è veramente nostro e ci appartiene questo è il sogno mai venuto meno di Dio riguardo le terre 25-23 le terre non si potranno vendere per sempre perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti questa voler dire nazioni nazioni della terra popoli se avete una terra questa è mio dono la terra è è mia è mio dono non ci sono altri padroni la terra è mia voi siete presso di me forestieri e ospiti io a volte lo faccio sorridendo quando vedo questi ne reti i bucogli oh ti ringrazio che sei qui così mi hai ricordato quello che mi ero dimenticato che sono uno straniero tu si sono un forestiero si mi è stata data i dono non sono io il proprietario ma ecco io credo che le chiese ritorno ecco ma voi capite ecco sono date all'uomo per il bene dell'uomo di ogni uomo ecco allora tutta la legislazione di Israele il forestiero sia trattato come un nativo diritti e do e do veri perché perché siamo tutti stranieri siamo tutti forestieri la prima lettera di Pietro il nuovo testamento definisce i cristiani ecco i forestieri noi siamo stranieri forestieri la nostra veniamo da un'altra patria che è il cielo per abitare bene questa terra ecco non da possessori ma da coloro che sanno che tutto hanno ricevuto in dono e sanno essere ospitali perché chiede partecipazione al tuo dono per poi ritornare al cielo ecco allora così l'uomo ecco e poi non solo ma in un discorso globale prendi ecco ritorna davvero in possesso ma anche di te stesso per cui l'anno giubilare ecco libera lo schiavo ecco rifai ecco così ridistribuisci perché tutti possono vivere da liberi secondo il necessario per ciascuno questo è l'ideale del deuteronomio nessuno sia misero presso di di te per cui la preoccupazione che nel fazzoletto di terra dove abitavano tutti avessero una casa il pane il libro è questo ecco sono cose sono le opere di misericordia corporali gratitissime tant'è vero che l'uomo sarà giudicato su questo Matteo 25 ecco oltre a questo ecco restituisci uomo restituisciti a te stesso un atto di misericordia è la riscoperta della propria dignità umana questo è amarsi amati abbi misericordia nei tuoi confronti abbi un cuore benevolo verso di te restituendoti alla tua dignità questo per il cristiano può significare nella mia lettura che faccio sempre restituisciti ti sei sbarrito ritrova te stesso ritrovati come figlio di Dio quindi un generato dall'amore come evento di amore ritrovati come un inviato alla terra su questo bisogna alzare il capo questa nostra dignità scrivercela dentro io sono un evento di amore io sono un inviato alla terra per amarla amatevi come io vi ho amati io sono un atteso dall'amore l'anno giubilare è allora un anno anche di rientro in noi stessi per restituirci a noi stessi l'uomo restituisciti a te stesso riscopri la tua dignità io vorrei che si capisse qui la grandezza di Dio scusatevi Dio in fondo notate che in tutte queste cose non parla mai dei nostri doveri nei suoi confronti è preoccupato come un padre come si dice con viscere materne è preoccupato della dignità del figlio anche del figlio del prodotto è preoccupato della dignità del figlio ritorna ecco alla tua segreta verità restituisciti a te stesso ecco io non amo l'orgoglio la superbia no no non è questo ma credo che dobbiamo riscoprire la fierezza dell'essere cristiano la dignità è la dignità dell'uomo ecco sì nella terra ecco il segno della dignità dell'uomo è un evento di amore è un inviato dall'amore ad amare è un atteso dall'amore è un'altra definizione dell'uomo volare in in alto ecco allora questa e restituisci alla terra la sua dignità leggila pure scientificamente lavorala pure tecnicamente a dire no 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 ma ma con questo non dimenticarti mai che è madre che ti nutre che è casa che ti accoglie che è il libro che ti istruisci ecco io lo chiamo con i ragazzi il magistero dell'insalata cosa ti insegna un piede di insalata non è da te non l'hai coltivata viene a te si dona impasto a te è per la tua consolazione ma ti insegna ma ti insegna datti anche tu il pasto per la consolazione degli altri il magistero quindi direi imparare allora ecco in questa globale intenzionalità biblica fatta propria da 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 esco anche nella laudato sì questa consapevolezza che tutto è dono dono è la legge dono è la terra dono è il Cristo e accogliere questo dono riappropriarci di se stessi rileggere l'altro come leggi te stesso è un figlio come me mi è un fratello mi è una sorella è un erede come me e rileggere l'umanità in questi termini vuol dire diventare umanizzare la vita umanizzare la vita allora ecco il il problema il problema del giubileo apriamo la porta santa apriamo la porta questa porta cosa ha ecco apri la porta e dalla porta viene a te colui che ti spinge oltre il misericordioso per un cuore nuovo alla luce del quale si abita la terra questo racconta levitico 25 poi anche i profeti ritornano e nella misericordia vultus cita al numero 16 il Papa cita Isaia 61 3 che poi questo testo che viene ripreso dal Vangelo anche dal anche dal Vangelo di dal Vangelo di Luca ecco vediamolo vediamolo un attimo almeno la 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 lettura ecco mi raccomando se a questo punto cominciate ad addormentarvi io abbasso il tono della voce così non vi sveglia ecco ma almeno leggiamo il testo che poi quello che Gesù dice a Nazareth lo spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha mi ha consacrato con l'unzione mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri a fasciare le piaghe dei cuori spezzati a proclamare la libertà degli schiavi la scarcerazione dei prigionieri a promulgare l'anno di grazia del Signore questo è il programma di Gesù fatto con queste stesse parole nel capitolo 4 nel capitolo 4 eccolo i versetti 18 21 di Luca lo spirito non ve lo dico perché è tale e quale poi dice riapporse il rotolo lo riconsigliò all'inserviente e sedette era in sinagoga nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui allora cominciò a dire loro oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato e ecco Gesù apre il tempo di Gesù ecco è il tempo nasce il tempo giubilare quindi Gesù ecco si rivolge in fondo a chi è nel dolore e si rivolge a chi non è nel dolore convocandoli chiamandoli a diventare suoi alleati nel prendersi cura di chi è dolore se uno sta bene economicamente stia bene economicamente non è se uno sta bene fisicamente stia bene fisicamente se uno sta bene culturalmente stia bene culturalmente se uno sta bene mentalmente stia bene anzi gioia dinanzi a chi sta bene si gioisce cosa chiede Gesù esci da te e ricordati che accanto all'io e al mio c'è il tu e il nostro il nostro quindi diventa partecipe della passione d'amore di Dio in Cristo per l'altro nel bisogno economico nel dolore psichico nel dolore mentale nella ecco nel non senso quanti sono perché non hanno in fondo un senso alla vita allora che bisogna scoprire queste cose nel luogo dove abita sì nel luogo dove abita la comunità per la comunità cristiana è sempre anno di grazia è sempre anno di misericordia l'essere lì in quel luogo in quel luogo dinanzi a ogni situazione umana dinanzi in quel luogo dinanzi in quel luogo dinanzi a una situazione a ogni situazione umana compresa la situazione umana di chi è nel benessere e non sa leggere come vivere il suo benessere anche quelle malattie dinanzi a questo esserci come una presenza del modo di esserci di Dio in Cristo il prendersi cura il coniugare l'io e il tu il mio e il nostro e qui faccio una citazione di Papa Francesco portare una parola è un gesto di consolazione a quante sono prigionieri delle nuove schiavitù della società moderna restituire la vista a chi non riesce più a vedere perché è curvo su se stesso malato di sé la nostra malattia oggi è il narcisismo tutti ricurvo su se stesso e restituire dignità a quanti ecco numero 16 a quanti ne sono privati allora essere il luogo attraverso cui Dio in Cristo ecco che si apre la porta verso il mondo essere il luogo attraverso cui Dio in Cristo si fa cuore perché anche Dio ha un cuore si fa cuore a chi è nel bisogno io da un po' di tempo sto riflettendo un po' così scusatemi su questo su chi è del benessere economico di salute di stima di cultura di religiosità e dico attenzione non si tratta di fare i moralisti o di puntare i diti no si tratta semplicemente di dire questo noi nel benessere che occhi abbiamo e che cuore abbiamo verso chi non è nel benessere e la figura di Zaccheo mi è sempre più illuminante Zaccheo vuole vedere Gesù perché non è contento non vive bene il suo benessere e Gesù vede Zaccheo e nonostante quello che pensano i benpensanti entra in casa sua oggi la salvezza è entrata in questa casa anche egli è un figlio di Abramo vuole dire anche egli è un figlio di Dio cosa è successo semplicemente questo è successo quello che nel Vangelo di domani dice Giovanni Battista ai pubblicati accontentatevi della vostra paga restituite quello che avete rubato non rubate più io dico che è già un altro programma tale e quale il Vangelo di Zaccheo cosa fa il pubblicano restituisce e condivide diventa un alleato non so se è chiaro allora perché la parola del Vangelo si rivolge a tutti non è settario il Vangelo e anche il domani l'episodio del Battista è illuminante anche se era vicino a Qumran o legato a Qumran ecco una comunità straordinaria ma anche con le sue settorialità tutti i catari eh sono un po' dobbiamo stare attenti a chi è preso da eccesso di purezza ecco che poi non diventi disumano in nome della sua purezza io amo molto lo dico sempre questa questa chiesa così che però è sempre ha sempre avuto la caratteristica della misericordia nella grande chiesa anche un disgraziato come me ci può stare nelle chiesette dei puri non è facile scusatemi ma ecco a volte allora questo allora ecco che così questo diventare questa parola rivolta a tutti perché c'è anche una salvezza per per tutti ecco allora e questo è restituire dignità dignità a tutti ora questo discorso ha concluso 4 16 21 ecco è ripreso da Luca quello che abbiamo letto e qui siamo introdotti a quello che poi ecco così poi proseguiremo ecco e lui si è manifestata Tito 2 11 pienamente la grazia di Dio questo eccomi di salvezza e di liberazione a una immagine alta e pura di Dio di Dio il nostro Dio non è né terrorista né il Dio della rappresaglia né il Dio che giustifica l'ingiustizia e gli status quo no il nostro Dio è il Dio della pace una immagine alta e pura di uomo la immagine di Cristo il figlio il fratello l'erede una immagine alta e pura di Chiesa questo è il nostro cammino il Giubileo ci invita a questo a scendere si apre una porta entra in una strada che ti porta ad una immagine ripeto alta e pura di Dio alta e pura di uomo alta e pura di Chiesa un anno di grazie grazie c'è spazio per qualche domanda o qualche osservazione prima di buttarci sul cibo volevo dire un'altra cosa c'è un foglio dove voi potreste se volete lasciare il vostro riferimento non è quel nome non lo riferisco così per la prossima volta ci organizziamo con un sistema di distribuzione più efficace di quello che è risolta ok quindi se qualcuno vuole intervenire se ci sono domande bene se non ci sono meglio un po' di umorismo a proposito a proposito di umorismo eravamo in vicariato gli inchianti e il vescovo Veini Mario ci ha raccontato questo una persona va dal papa e gli dice era una santa Marta senta c'è questa persona che vuole in assoluto che lei gli benedica questo rosario lo desidera tanto il papa lo guarda va bene benedice poi lo guarda fa 80 euro ridendo simpatico sì la domanda la domanda la domanda la domanda la domanda spiegare la trinità la domanda spiegare la trinità tutti ridono giustamente tutti ridono questo è umorismo allo stato pulito no la trinità io posso solo dire questo posso solo dire questo che nella storia delle religioni poi è successo un fenomeno singolare se noi guardiamo la storia delle religioni in genere si parla sempre normalmente di divinità questa divinità ha una specifica in genere diventa un tu in Israele questo tu che non è frutto della mente umana e del cuore umano ma è un tu che poi verrà chiamato il dio di Abramo il dio di Isacco il dio di Giacobbe è un tu che liberamente decide di farsi vicino la ove dicevamo prima l'uomo è nel come liberatore legislatore e perdono poi con Gesù di Nazareth inizia un discorso in cui questo tu è un tu comunionale e questo distingue il cristianesimo dall'ebraismo e dall'islamismo perché tutti e tre si definiscono figli di Abramo ecco il nostro dio è il dio di Abramo se volete è l'allà dei musulmani ma ecco il nostro dio è il dio secondo l'interpretazione che ne ha dato Gesù e secondo le conseguenze che ne derivano alla luce di questa interpretazione io al di là di Matteo 28 dice battezzate nel nome del Padre del Figlio dello Spirito io voglio leggervi quello che a mio parere già nel Nuovo Testamento nella seconda lettera ai Corinzi spiega la Tredità che è quello che diciamo non a caso tutte le volte che iniziamo la celebrazione eucaristica o se non questa formula ma sovente la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi è uno il nostro Dio è uno uno se ci chiedono come come si chiama il mio Dio si chiama padre che ama figlio che fa grazia Spirito Santo che apre alla comunione è una unità comunionale relazionale il nostro Dio è un monoteismo relazionale è un monoteismo comunionale il nostro Dio è comunione è relazione si chiama un solo Dio si chiama padre che ama l'amante figlio che fa grazia ma che è l'amato battesimo Spirito Santo che è l'amore che congiunge è padre che ama il padre che ama invia il figlio il figlio è la grazia dell'amore del padre nessuno ha mai visto Dio se non colui dice Giovanni 1.18 che viene dal seno di Dio il verbo che viene dal seno di Dio ed è venuto a battezzare in Spirito Santo ecco allora che la Trinità diventa importante volevo accennare anche oggi a questo proprio perché allora diventa diventa vi dico questo da ridere non da ridere ma dico sul serio in un articolo di qualche tempo fa Massimo Cacciari diceva i cristiani per favore le raccomando non abbandonano le loro grandi icone a cominciare dall'icona della Trinità perché è la fondazione della struttura della società una nella distinzione nell'amore e nella reciprocità quindi né uniformità né separazione ma unità nella distinzione nell'amore e nella reciprocità l'umanità icona della Trinità unità nella distinzione il padre è il padre il figlio è il figlio lo spirito santo è lo spirito santo in un rapporto di amore e di reciprocità e di libertà ovvia quindi allora ecco che il nostro dio è un monoteismo comunionale come si dice oggi relazionale in sé ecco perché poi a sua immagine e somiglianza non crea uno ma crea due cioè l'uomo uno maschio e femminile che diventano l'immagine di dio uniti sulla carne uniti e distinti nell'amore e nella reciprocità in fondo ecco la vita umana è relazione quindi dio è una unità relazionale ecco nel progetto creazionale ecco perché dio fa saltare babele non piacque l'ordine è istituito a babela a babilonia a dio non piace l'imperialismo di qualunque tipo esso sia gli imperialismi non piacciono perché l'imperialismo è l'uniformità tutti sotto la stessa lingua la dittatura dicta io ho detto la lingua a tutti ed io spezza questo gerusalemme guarisce babilonia a gerusalemme tutti erano un cuor sole un'anima sola tutti lodavano e annunciavano le meraviglie di dio ciascuno nella propria lingua c'è sempre l'unità e la distinzione quindi il grande male dell'unità è l'uniformità la dittatura il grande male della distinzione è la separazione i nazionalismi e i regionalismi cioè con saggenza cacciare dice attenzione queste cose hanno rilevanza hanno rilevanza storica dire trinità non è dire una è un qualcosa che riguarda la nostra struttura di società l'unità la distinzione l'amore la reciprocità la libertà la negazione è la dittatura uniformità la separazione regionalismo il conflitto inevitabile contro i regionalismi si combatte o combattono fra di loro contro le dittature si combatte questa è la storia dell'uomo e la chiesa è chiamata essere il sacramento di come dio sogna l'umanità unita e distinta nell'amore nella reciprocità ecco perché si è arrivati addirittura ecco anche qui il Vaticano II e anche il ministero di Papa Francesco rivalorizzare le chiese locali che non sono delle prefetture di Roma non so se è chiaro sono chiese locali in comunione fra di loro in comunione con la chiesa madre che è la chiesa di Roma non so se è chiaro io ormai arrivo a dirlo a volte anche in maniera polemica quando mi dicono tu sei in comunione con Roma posso solo dirti che sono d'accordo con il mio vescovo il quale d'accordo nelle cose sostanziali il quale mi risulta che è in comunione con Roma non so se è chiaro bisogna avere di nuovo il coraggio di riscoprire la degnità anche della nostra località che non è la chiesa una santa cattolica apostolica è nella chiesa locale e allora ecco che nasce il concetto di comunione ecco allora questi concetti ecco di 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 Dio è amore il figlio è l'amore di Dio fatto carne lo spirito santo Romani 5 effonde l'amore di Dio nei nostri cuori e ci rende creature capaci di comunione il padre che mi ama per mezzo del figlio nello spirito mi dona amore e fa di me una creatore che ringrazia il padre e che è in comunione con con tutti altri possono essere in comunione con me ma io non ho nemici sono in in comunione ecco allora che il mistero della è è la lettura comunionale dell'unico Dio questa è la caratteristica tipicamente cristiana scusa ho fatto qualche tempo fa il rabbino Lara in un teatro di lecco è un è un suffi Gabriele Mandel che ora è morto proprio un rincontro diteci per favore cosa pensate di Gesù Cristo che cosa ne consegue in base a quello che pensate di Gesù Cristo un rincontro bellissimo l'uno è il più grande maestro in Israele è un cristiano quando sente dire che Gesù è grande maestro di sapienza gioisce l'altro è il più grande profeta gioisce poi mi guarda tu di apertamente quello che vuoi cosa volete che vi dica sono d'accordo con voi che è maestro grande sono d'accordo con voi che è profeta grande ma voi sapete già cosa dico io nella mia liturgia assieme ai miei fratelli alle mie sorelle cristiane dico mio signore e mio Dio che è la confessione di Tommaso questa lasciatela dire a me è un ebreo molto saggio fa cristiani foste veramente voi stessi staremmo meglio tutti perché se foste voi stessi non fareste del male mai a nessuno aveva ragione ecco e in base al mio signore dico il mio signore è il rivelatore del padre è il datore del spirito non so se è chiaro questa ecco questo allora è il compito dei cristiani di conservarla questa memoria questo volto di Dio anche scusatemi questi riferimenti anche un rabbino ultimamente in Israele fino ad agosto poi meno cristiano cosa dice in fondo sì il cristianesimo ha una grande chiave interpretativa dell'unico Dio e delle scritture che è Gesù Cristo allora per noi è l'interpretazione delle scritture è il rivelatore in pienezza del volto dell'unico Dio queste cose si adorano si adorano infatti non resta che l'adorazione mentre storicamente è essere il segno questo sì dell'amore del padre della grazia del figlio e della comunione dello spirito per cui ha sempre delle ricadute storiche concrete quando tu dici che a Dio non piacciono gli imperi però il Vangelo dice che Gesù è nato quando la pace regnavano tutta la terra e non è la pace romana che si è nato ma vedi Gesù questo lo dice Luca Gesù è nato quando ecco non piacciono gli imperi nel senso infatti è vero che anche Gesù poi per esempio ad Erode gli vanno a dire diti a quella volpe secondo date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio e lì è molto importante questo perché datemi una moneta di chi è l'Effige è di Cesare bene date a Cesare quello che è di Cesare che voleva dire pagatele pagategli pure le tasse usate pure questo denaro non è qui non è questione di vita o di morte ma il vostro volto di chi è è di Dio quindi la coscienza la si dona cioè il determinante la tua vita in termini ultimi non è Cesare ma è Dio tant'è vero che i cristiani primi ci chiediamo ma perché erano messi a morte noi diciamo per una questione banale non la riusciamo più a capire bene messi a morte non perché si comportavano bene pagavano le tasse non solo accoglievano gli stranieri che arrivavano a Roma ecco la prima nella carità proprio ecco usciti dall'accerchiamento si preoccupavano dei forestieri che erano quindi erano cittadini normali perché allora perché si rifiutavano di dare a Cesare il titolo di benefattore di salvatore e di signore Cesare noi ti diamo l'onore ma da noi non puoi pretendere che ti consideriamo un assoluto so se è chiaro e l'assoluto che in quel momento era Cesare ha capito questi sono molto pericolosi minano alla radice il mio potere e allora ecco perché nasce il credo credo in un solo signore vuol dire Cesare tu ecco sei semplicemente un ministro cerca di essere un ministro di cose buone cioè procura quello che Cesare deve procurare diritto giustizia e pace ma non pretendere di ritenerti un divino il divus non pretendere di ritenerti un assoluto insindacabile noi non pretendere di essere il nostro signore noi di Dio ne abbiamo uno il padre di signore uno Gesù di Nazio Gesù il Signore di spirito uno lo spirito santo il resto è tutto relativo il cristianesimo è la relativizzazione del tutto so se è chiaro allora Cesare ha capito l'ha capito così bene che dice queste qui per calmarli per calmarli arricchiamoli di beni di potere e così diventano un po' tonti grazie a tutti